Dimmi un po', lo sai come si possono collegare questo libro e questo videogioco? Il libro di cui ti vado a parlare oggi, scritto da Cormac McCarthy, ha ispirato nel tempo un famosissimo film interpretato da Viggo Mortensen. Il film, a sua volta, ha ispirato il finale del videogioco diretto da Neil Druckmann.